eccovi questa è la base guidata che ho fatto ieri sotto il temporale ha preso tanta 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 acqua non so se si vede meno male si sono conservati i bianchi quindi ho i bianchi delle finestre, i bianchi dei lampioni i bianchi dei tetti, della collina, del campanile e inoltre c'è una bellissima fusione adesso arriva per me il secondo step che è quello di cercare il tesoro nella macchia quindi vedere cosa il quadro mi offre come risoluzione del lavoro è una cosa che farò adesso senza filmarmi perché con l'iPad non posso dipingere e filmare purtroppo e farò vedere il risultato al lavoro compiuto ciao